Sarà il giudice ordinario e non il TAR ad avere la competenza ad applicare la legge Severino ai politici condannati. Le sezioni unite civili della Cassazione e riunite esiglieri dovevano appunto stabilire se sia del giudice ordinario o del TAR la competenza a decidere il destino dei politici condannati e incappati nell'esilio forzato dagli incarichi elettivi per effetto della legge Severino. C'è da capire in caso di Vittoria di Vincenzo De Luca se sarà effettivamente lui a governare la Regione affidando al Tribunale ordinario l'ultima parola sull'applicazione della Severino. De Luca potrebbe avere la strada in salita per insediarsi nel nuovo incarico e potrebbe dover scontare 18 mesi di purgatorio severiniano. Tradizionalmente infatti i magistrati ordinari sono meno repentini di quelli contabili nell'applicare la legge anche se le eccezioni si possono sempre verificare. A sollevare il problema della competenza davanti alle sezioni unite civili presidute da Antonio Rovelli il numero 2 della Cassazione dopo il primo presidente Giorgio Santacroce era stato un ricorso del Movimento per la difesa del cittadino difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino che a margine della decisione si è detto molto soddisfatto. Per quanto riguarda De Luca lo scorso 21 gennaio il Tribunale di Salerno lo aveva condannato pena sospesa ad un anno di reclusione e un anno di interdizione dei pubblici uffici per abuso d'ufficio in relazione alla nomina di un project manager per il progetto di realizzazione del termovalorizzatore di Salerno. In forza della legge severino il 23 gennaio De Luca è stato sospeso per 18 mesi dalle sue funzioni di sindaco di Salerno nelle quali tre giorni dopo lo ha rimesso il tar della campagna. La battaglia ora è sui termini ovvero in caso di vittoria alle regionali De Luca prima che la tagliola della Severino scatti avrà l'opportunità e il tempo per potersi insediare ed in attesa a questo punto prima di presentare un ricorso ex articolo 700 dinanzi al giudice ordinario avrà il tempo di nominare un vice e la squadra di assessori molto secondo l'opinione prevalente dipenderà dall'emissione del decreto di decadenza che dovrà essere firmato da Palazzo Chigi, da Renzi e dal ministro per gli interni Alfano e la partita si giocherà proprio in quel lasso di tempo che intercorrerà tra l'elezione ricorso d'urgenza ed emissione del decreto di decadenza.